Emil Kusturitz ha fatto visita ieri pomeriggio al laboratorio urbano di Palazzo Tuputi. L'evento era previsto in contemporanea con l'inaugurazione del laboratorio e della mossa fotografica allestita in onore dei vent'anni dall'uscita in le sale del celebre film Underground. Venerdì però uno sciopero aereo aveva lasciato il regista nel suo paese. Per la gioia degli appassionati di cinema bicegliesi e non solo, Kusturitz ha mantenuto fede alla sua parola e nonostante i suoi impegni musicali previsti a nuovoli in serata, ha fatto tappa a Biceglie per dar vita a un'animata conferenza nelle stanze del laboratorio gestito dal Cineclub Canudo e dalla Fondazione Solaris di Parma. Tanti gli argomenti toccati dal regista nel corso dell'evento. Da retroscena sulla genesi di Underground, passando per il racconto dell'ex Yugoslavia della guerra, si raggiunge dal discorso più ampio su come si è cambiato il cinema in questi ultimi anni. Immancabile la domanda sul cinema italiano è l'elogio spassionato del regista al maestro Fellini. Kusturitz non ha tralasciato diversi divertenti aneddoti da Red Carpet. Intervenuto all'evento anche il sindaco Spina, che ha accolto l'occasione per ringraziare Kusturitz dalla sua presenza nella città del Dolmen. In maniera arguta e simpatica, il regista ha rimarcato la differenza tra lui ed il sindaco. Dopo la piacevolissima chiacchierata, Kusturitz è scappato via non prima però di ricevere l'invito di Antonio Musci a tornare presto a far visita al laboratorio urbano di Palazzo Tuputi.